Ciao Ale, ciao. Tutto bene? Sì, tutto bene. A te? Così, così. Perché? Sono sola a casa e un po' di paura. Ma perché dovresti avere paura? Sento ruoli strani provenire dalla cantina. Oddio, cosa succede? Ale, vedo un'ombra. Nasconditi. Ok, vado sotto il mio letto. Ti vedrà lì. Trova un altro nascondiglio. Non mi vedrà. Non vedo niente perché c'è l'altra punta che mi copre. Ora spengo il telefono. Potrebbe vedermi con la luce. Ok, a dopo. Ale, cosa c'è ora? Sta bisbigliando il mio nome. Dice che vuole giocare con me. Ma io sono giocare. Vieni fuori. Oddio. Sono molto presto. Aiuto. Cosa c'è? Mi ha visto. Non ha le pupille. Muori. Ciao. Ciao. Chi sei? Il fantasma di demonandia. Sì, sì. Ci credo. Tu non credermi. Oddio. Chi sei? Un fantasma e un demone. Bene. Cosa hai fatto, Enrici? L'ho ucciso. Non riuscirai a festeggiare il tuo undicesimo compleanno. Perché? Sto venendo a prenderti. Dove sei, moccioso? Non te lo dirò mai. Finalmente ti ho ucciso. Bene ragazzi, questa è la mia prima chat horror con un mio amico che si chiama Alessandro. Ricordate di attivare la campanellina, iscrivervi e mettere like. Io sono Enrici Gameplay e noi ci vediamo al prossimo video. Bella ragazza.